Ciao Labbert, oggi vi parliamo di iPad 2. Sarà infatti presto possibile acquistare con Vodafone l'ultimo arrivato di casa Apple. Per chi acquista iPad 2 sullo shop di Vodafone abbiamo sul retro la micro sim dati ricaricabile e 5 euro di traffico incluso. Vediamo insieme il contenuto della confezione. Apriamo. Abbiamo l'iPad, una guida al prodotto, il cavo connettore USB e l'alimentatore. Ha un display multi-touch widescreen retroilluminato a LED da 9.7 pollici e una risoluzione 1024x768. Ultraleggero con solo 8.8 mm di spessore e 613 grammi di peso. Ha una videocamera posteriore per la registrazione video in HD a 720p e zoom digitale 5x e una videocamera frontale per la registrazione video in VGA. Nella parte superiore troviamo il jack da 3.5 mm, il tasto di accensione on-off o di stand-by. Sul lato abbiamo i tasti del volume, il tasto per mettere il mute o per bloccare la rotazione dello schermo, il connettore dock e lo slot per l'alloggiamento della micro sim. Per proteggere l'iPad 2 è possibile acquistare separatamente la nuova smart cover. Disponibile in diversi colori può essere utilizzata per proteggere lo schermo oppure arrotolandola come supporto per tastiera o come supporto per video in orizzontale o in verticale. Chiudendo la cover, grazie a un interruttore che si aziona con il campo magnetico generato dalla cover, va automaticamente in stand-by. L'iPad 2 è disponibile nelle versioni a 16, 32 o 64 GB ed è possibile acquistarlo con offerta ricaricabile al prezzo di 599, 699 o 799 euro per le rispettive versioni. Oppure in abbonamento a partire da soli 29 euro con 0 euro di anticipo. Tutti i clienti potranno inoltre accedere gratuitamente alle applicazioni Vodafone. Dall'App Store troviamo ovviamente Vodafone Lab, ossia la community online di Vodafone. Abbiamo My190 che ti consente di ottenere tutte le informazioni relative alle tue sim. E Pascalcio, l'applicazione Vodafone grazie alla quale è possibile seguire la diretta delle partite più importanti di campionato con dei video in alta definizione proprio come in TV. Oppure i risultati con la cronaca testuale e gli highlights dei gol delle partite di campionato e di Coppa. È possibile seguire anche le news relative al mondo del calcio e approfondirle. Oppure vedere i video delle nostre squadre preferite. Per tenere sotto controllo il traffico internet e verificare le promozioni attive collegati alla pagina contatori.vodafone.it Oppure per acquistare o conoscere tutti i dettagli su iPad 2 visita la pagina ipad.vodafone.it E con questo è tutto, ciao e alla prossima!